Con Filippo Pescioli, Pippo, una sconfitta onestamente troppo pesante. 19 punti in questo derby sono un divario un po' bugiardo, anche perché per tre quarti siete abbondantemente stati lì. Poi forse ha vinto un po' più l'organizzazione dell'Enic che si è dimostrata più compatta. Sicuramente l'organizzazione l'ha fatta dal padrone. Ci hanno negato tutti i nostri punti forza dell'attacco. Fondamentalmente non abbiamo letto la partita finché abbiamo lavorato bene in difesa e per tre quarti l'abbiamo anche fatto. In attacco l'Apo ci ha veramente messo in difficoltà come nessuno aveva fatto per ora in tutto il girone. Niente, da qui viene a ripartire. Abbiamo tanti problemini, lavoro d'occhini come tutti sapete, tanti infortuni. Fra Cassini deve rientrare, Kelly ci sono infiltrato, Rossi ci sono infiltrato. Purtroppo sono le scuse che a me non piacciono, però è la verità non riusciamo neanche a allenarsi più che altro. Comunque oggi forse la partita perfetta di Firenze è difficile prenderla. Il divario è un po' alto, mi sembra pari a 11 minuti alla fine, non so se per giuro, però capita purtroppo. Di 1-20 conta poco, tanto non faremo il campionato con loro a questo punto penso. Un'altra cosa, che salvi da stasera, da questa partita? Secondo me comunque per quasi tre quarti l'atteggiamento della squadra è stato positivo, poi vengono fuori i problemi che ci hai già detto te. I problemi d'attacco vanno sicuramente aggiustati, salvo il buon lavoro difensivo fatto comunque sui rabaglietti, quello abbiamo preparato, quel po' abbiamo riuscito a fare, concediamo qualcosa a dei giocatori e quegli giocatori oggi sono stati super. Vedi Marotta, a me piace tantissimo, è uno dei migliori premi del campionato. Sorpresa a Goretti, complimenti veramente a Nicolò, ha fatto veramente una migliore partita. Allora, dopo il giorno di andata, che idea ti sia fatto sul campionato? Ti chiedo un commento, sul campionato che potete fare voi nel giorno di ritorno e come vedi la lotta per le prime quattro posizioni, se ci hai dato un occhiatino anche voi oppure no? Ma io credo che tre squadre siano proprio alla portata. Firenze, che secondo me non ha nomi ma come organizzazione e come modo di giocare è forse il più forte del campionato. Sianacassati e Florentino sono due ottime squadre, penso queste tre. Guardiamo a Saffallucca, la corsa da fare su loro ma dobbiamo andare a giocare da loro, non sarà facile. Noi problemi fisici mettendoci proveremo fino alla fine. Se no cercheremo di vincere i sconti diretti delle squadre verranno con noi a fare il secondo girone dal quinto all'ottavo posto per arrivare a un più punti in classifica possibile.